Una stagione turistica già iniziata per il Lago di Garda, una stagione che si apre sotto i migliori ospici. Ne vogliamo parlare con Franco Cerini, che è presidente del Consorzio di Promozione Turistica Lago di Garda Lombardia. Dottor Cerini, tanti mesi di lavoro alle spalle, una stagione autunnale, invernale e impegnativa per il Consorzio. Dopo questa attività, che cosa si può dire sulle aspettative per il 2016? Affrontiamo la stagione 2016 con grande ottimismo. Ottimismo che non ci proviene solo da sensazioni personali, ma dal riscontro che abbiamo ottenuto partecipando a fiere, organizzando Educational, riaggiornando il nostro sito e dai risultati che abbiamo ottenuto dal parere degli ospiti che hanno partecipato a tutte queste iniziative. Il Lago di Garda è un lago amato e sempre più amato. Naturalmente una delle peculiarità di questo Consorzio è la forza di un'unità territoriale, che è alle proprie spalle, quindi amministrazioni comunali, imprenditori del settore turistico, tutti con un obiettivo ben chiaro, preciso, la promozione territoriale e naturalmente anche la tutela del territorio perché questo è il patrimonio su cui si può fare leva. Guardi, il Lago di Garda Lombardia, unitamente al Consorzio Veneto e al Consorzio Tentino, rappresenta nel panorama italiano un unicum, non esiste un altro paragone di tre regioni che lavorano così assiduamente e costantemente. Io sono Presidente del Consorzio di Garda Lombardia, grazie per la verità, la generosità dei sindaci che hanno inteso scegliere non un pubblico amministratore per rappresentarlo, ma un imprenditore che rappresenta non solo le amministrazioni comunali, ma i consorzi di tutela, i consorzi del vino e di tutti, soprattutto i consorzi dell'enogastronomia del Lago di Garda, quindi è un grande onore. Credo che questa sia la nostra forza che dobbiamo costantemente perseguire. 24 milioni di presenze turistiche annuali, circa 19 di queste sono formate da stranieri, quindi circa il 10% delle presenze turistiche in Italia di stranieri. Il Lago di Garda è molto solido, questi dati sono un tetto o un punto di partenza per nuovi risultati brillanti? Il Lago di Garda rappresenta, pensi un po', dopo Roma e Venezia, il terzo distretto italiano come numero di presenze. È una cosa incredibile che a volte ci sfugge e ci costringe ad impegnarci sempre di più. Io ho l'impressione che possiamo e dobbiamo migliorare. Dobbiamo dichiararci, per certi versi, naturalmente insoddisfatti di quel che abbiamo fatto, nel senso che possiamo e dobbiamo metterci a lavorare costantemente di più e meglio. Possiamo farlo. Immagino che ci siano molti canali su cui viene proiettata l'immagine del Lago di Garda, molti progetti da attuare. Quello che secondo lei distingue maggiormente il Consorzio Lago di Garda Lombardia in questo periodo, qual è l'attività di cui si sente maggiormente orgoglioso? Il Lago di Garda Lombardia rappresenta una diversità. La sponda lombarda che parte da Limone e arriva a Pozzolengo, quindi la parte che riguarda l'aspetto dello sport, dell'interesse. Le dico che ultimamente abbiamo messo in campo l'iniziativa del turismo religioso, proponendo dei percorsi che valorizzano ciò che in verità c'è già. Si era detto una volta del Lago, si diceva dalla gente di Lago, gen sacquatica, gen selvatica. È stato modificato da un nostro parroco che ha detto gen sacquatica, gen sancta, considerando il fatto che da Limone, ricordiamo Daniele Comboni, fino a Desenzano e anche a Pozzolengo, ogni nostro paese è un santo, a qualcuno che ha segnato non solo dal punto di vista religioso, ma dal punto di vista cristiano, l'impegno verso la società. E dalle parole del Presidente Cerini incontriamo il Vice Presidente Luigi Alberti. Parliamo di un altro punto di forza straordinario del territorio gardesano, ovvero l'enogastronomia, un prodotto ricchissimo che può essere vantato da questo territorio. Partiamo di tanti, tanti argomenti che sono frecce nella faretra dei gardesani per essere lanciate da un arco che è anche il Consorzio Lago di Garda Lombardia. Sì, è vero. Io credo che il 2016 sarà segnato da un forte rilancio dell'enogastronomia nel nostro territorio. Il risultato del 2015 è stato altamente positivo. Le cantine sono state aperte per lunghi periodi, la gente ha potuto degustare i nostri vini, ma soprattutto anche gli oliefici, nonostante un'annata difficile, però ha trovato una presenza notevole. E sta sempre più prendendo piede nei nostri ristoranti, negli alberghi, eccetera, la possibilità per i turisti di gustare sui propri tavoli vini, olio e i nostri prodotti, a cominciare anche dei formaggi dall'alto garda. Credo però che noi dobbiamo caratterizzare di più la nostra azione. Credo che alcuni appuntamenti che avverranno quest'anno, a cominciare da Italia in rosa, la manifestazione dei vini, del vino chiaretto, dei rosati, eccetera, debba caratterizzare sempre di più non solo l'aspetto del vino e la qualità del nostro vino chiaretto, ma quali abbinamenti questo vino è in grado di offrire sui nostri tavoli e quindi fare in modo che l'elemento forte dell'enogastronomia sia proprio la possibilità di far assaggiare ai turisti che arrivano questi nostri prodotti. Che tipo di rapporto c'è tra chi si occupa di ricettività in senso stretto e chi promuove il territorio d'eccellenza del Lago di Garda? Ma il rapporto è migliorato abbastanza bene negli ultimi anni. Manca ancora qualcosa. Manca ancora questo fatto di capire, e ciò che sta facendo il Consorzio Lago di Garda molto bene, qual è il concetto vero del turismo, che non è più come una volta un turismo legato solo alla recettività, ai livelli di qualità della recettività, ma all'insieme del turismo. E quindi c'è bisogno che in modo particolare, da parte degli albergatori, si faccia uno sforzo in più per portare sui nostri tavoli, nei loro alberghi, nei nostri ristoranti, eccetera, i nostri prodotti. Dall'altro però credo che anche i consorsi dell'enogastronomia, del vino, dell'olio, dei formaggi, delle nostre marmellate, di tutti i nostri prodotti, devono sapere che va fatto uno sforzo in tal senso anche per farsi conoscere e apprezzare sempre di più all'estero. Le fiere che facciamo noi e che le facciamo dal punto di vista turistico devono essere sempre più accompagnate da una presenza dei nostri prodotti e soprattutto nell'ambito della comunicazione i nostri prodotti devono essere uno degli aspetti portanti che noi portiamo. Un'ultima domanda è legata al calendario di eventi, i gardesani, questi hanno un ruolo di traino nei confronti del movimento turistico, è importante poter programmare bene gli appuntamenti nell'arco dell'estate e soprattutto appuntamenti di qualità per far sì che il visitatore proveniente dagli altri paesi d'Europa soprattutto possa individuare il suo periodo di elezione per le vacanze. È un elemento vero, nel senso che già l'anno scorso abbiamo avuto parecchie richieste e parecchie domande della gente che ci chiedeva appunto di alcuni appuntamenti che avvengono sul nostro territorio. Possiamo fare qualche esempio? L'esempio riguarda in modo particolare 5 o 6 aspetti delle no gastronomie che avvengono. Il primo è Italia in rosa, le stesse fiere di Polpenazze di Puegnago dei Vini, il verde di Padenge, la stessa manifestazione che viene a Delianzano per quanto riguarda Lugana ma in modo particolare anche l'ultima, la conclusione di tutte queste cose qua che è il profumo di mosto che avviene nel mese di ottobre e dove devo dire che ad esempio favoriti anche da un'annata meravigliosa perché nel 2015 abbiamo avuto un ottobre stupendo, meraviglioso, però devo dire che a profumi di mosto abbiamo avuto una presenza straniera altissima e quindi nelle nostre cantine ci sono andati e quindi hanno soggiornato da noi eccetera. Quindi la richiesta sta a noi avere la capacità di farlo attraverso una comunicazione forte, puntuale, precisa ma soprattutto anche nelle fiere alle quali noi andiamo e dobbiamo portare indubbiamente le nostre date e i nostri programmi. Concludiamo questa puntata di Vivere il Garda con il direttore del Consorzio Lago di Garda Lombardia Marco Girardi per dire in un minuto quali sono le aspettative per la stagione entrante. Abbiamo chiuso un 2015 straordinario dal punto di vista delle presenze e sotto anche altri punti di vista il 2016 come si appresta ad essere? Il 2016 sarà secondo noi ma secondo naturalmente anche parlando con i nostri albergatori che stanno già appunto avendo diverse richieste quindi già tante prenotazioni dovrebbe essere un anno migliore ancora del 2015 quindi sicuramente si prevede un aumento ulteriore di circa sicuramente un 5% in più del 2015. Nazionalità di riferimento quelle del centro-nord Europa ma in forte crescita anche nuove aree e gli italiani che cominciano a tornare già dal 2015 effettivamente sul Lago di Garda in maniera massiccia. Certo la prova l'abbiamo avuta nel periodo pasquale c'è stato il boom proprio degli italiani sul Garda non era mai successo e già l'anno scorso c'è stato un notevole aumento anche in paesi che normalmente gli italiani li vedevi poco tipo limone e così mentre invece veramente c'è la riscoperta degli italiani del Lago di Garda. Ultimissima battuta tante fiere, tanti eventi internazionali seguiti personalmente dal direttore come viene valutato il fenomeno Italia Lago di Garda dai nostri futuri turisti? Sì, grosso lavoro è stato fatto appunto alle fiere con il nostro personale abbiamo non solo incontrato naturalmente i turisti che vengono a visitare la fiera per raccogliere le informazioni per poi programmare la loro vacanza ma abbiamo anche incontrato in molti giornalisti e tour operator le previsioni sono sicuramente ottime e naturalmente la richiesta è sempre più variata ormai non c'è più la vacanza normale ma c'è il tema vacanze e il tema vacanza dobbiamo naturalmente crearcelo noi. Grazie a tutti